Una cosa importante su questa nazione sta succedendo che una società che la Regione ha comprato pagandola 10 milioni di euro la sta facendo morire privandola del lavoro. Oggi noi siamo qui a protestare annunciando il blocco delle attività di sviluppo Italia Sicilia perché in violazione della legge regionale che ci aveva assegnato le commesse in house per quello che riguarda l'autoimprenditorialità, l'autoimpiego, il supporto all'imprenditoria locale ci è stata scippata ed è stata data ad altri in violazione di una delibera regionale e di una legge regionale e questo non è più tollerabile da lavoratori che da otto mesi non percepiscono lo stipendio, per cui da oggi tiriamo le somme e contro questo consiglio di amministrazione che è totalmente inerte, che non è stato in grado di difendere la società e i suoi lavoratori, proclamiamo la protesta.